bentornati su my football jersey arrivato a questo punto della stagione inizio a prendere un po maglie diciamo alternative questa era un pallino che volevo avere da tanto tempo è la seconda maglia dell'ipsia in versione fan un po la maglia non è niente male ovviamente fa da padrone diciamo lo sponsor di questo club famoso in particolare questa lavorazione belli colori sicuramente di un'ottima qualità il costo lo vedete qui sopra molto accattivante per questa maglia che secondo me non è niente male se volete ordinare la maglia trovate tutti i riferimenti qua sotto in descrizione mi raccomando andate a vedere perché insieme a questa maglia troverete tante altre offerte che vi attendono ora vi lascio la parte finale nella quale vedrete la vestibilità prima però mi raccomando iscrivetevi al canale spingete questo pulsante non basta così poco per oggi è tutto alla prossima ciao 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 ciao